Allora, inizio a prendere il mio boccettino di smalto vuoto e pulito e tolgo il pennellino per ora e poi vado a prendere la colla vinilica e vado a riempire il boccettino neanche metà, un quarto. Dopo aver il mio boccettino è piccolino ho scelto di provare questo metodo con il boccettino piccolino. Voi potete usare qualsiasi boccettino che volete, grande piccolo. Ecco, e ora metto un po' di acqua, ma proprio pochissima, ora non riuscivo a riprendere, ma proprio poca poca. metto il pennellino e shaker, mescolo il tutto e ora è pronto. Lo metto sulla mia pelle, no, le mie unghie, la mia pelle. Ecco, ora dopo aver fatto la nail art sfumata con la spugnetta tolgo tutta la pellicola, diciamo, che si è formata sulla pelle, però vedete che benissimo non viene via intorno alle cuticole, proprio in parte a lunghe non viene via e bisogna andare a pulire meglio con una penna a correggio smalto, un coton fioco, un pennellino imbevuto nell'acetone, però è un aiuto. È molto meglio così che toglierla dalla pelle. E quindi, niente, ditemi cosa ne pensate. Se volete provare anche voi questo metodo, ditemi come vi siete trovate. e per qualsiasi domanda, dubbi, qualsiasi cosa scrivetemi in un commento qui sotto. Ciao!